Sono strafelice, ieri ero in studio che stavo lavorando, ho letto la notizia, ho fatto un salto e sono caduto dalla sedia, perché è la sedia con le ruote. Felicissimo, ringrazio Luca Zaia per l'impegno che ci ha messo, il cuore che ci ha messo, tutto il Veneto. Abbiamo le montagne più belle del mondo, le Dolomiti, non potevamo non vincere. Chi ha queste montagne? Per cui sarà una gioia immensa e io spero di esserci, esserci anche col mio lavoro, a scrivere qualcosa per questa iniziativa, perché c'è dentro tutto il mio cuore in questa vittoria del Veneto e dell'Italia. Spero che mi offrano l'occasione di farlo, io sono pronto. Se lei dovesse dedicare una canzone a queste Olimpiadi, quale sarebbe? Ma sai, canzoni da scegliere ce ne sarebbero tante, però di sicuro penso a un pezzo dei Queen, We are the champions, perché siamo stati veramente dei campioni anche a portarle a casa queste Olimpiadi.